Ben ritrovati amici di Padre Pio TV. Ci troviamo in un periodo in cui si mangia molto. Si mangia quello che si trova sulla tavola anche perché non sempre a preparare siamo noi o a preparare qualcuno al quale noi abbiamo dato il nostro indirizzo, il nostro contributo in termini di ingredienti per poter preparare. Però proprio perché in questo periodo si mangia tanto e spesso male vogliamo suggerirvi in questo spazio salute qualche elemento di riflessione su come mangiare in maniera più oculata, più salutare e anche in maniera alternativa. Per questo è con noi in studio la dottoressa Maria Pia Placentino che è farmacista, direte voi ma che c'entra una farmacista con l'alimentazione. Ebbene la dottoressa Placentino ha una parafarmacia, è titolare di una parafarmacia nella quale si vendono anche prodotti biologici e questo è il primo aspetto di cui ci vogliamo occupare ma anche prodotti vegani. Benvenuta fra noi dottoressa. Buonasera. Allora anzitutto spieghiamo con precisione perché alle volte c'è molta confusione nell'opinione pubblica che cosa sono i prodotti biologici e cosa sono i prodotti vegani. Allora i prodotti vegani comunque rientrano nel biologico perché comunque... Quindi sono una sottocategoria. No, non dire così perché ti ucciderebbero. Una categoria a parte. Cerchiamo di sopravvivere. I biologici sono prodotti che comunque non hanno subito contaminazione batterica. Quindi anche i contadini che si interessano di biologico utilizzano dei terreni sia per l'agricoltura che per gli allevamenti utilizzando materiale organico che comunque non deve essere contaminato. Quindi non deve essere contaminato da batteri ma anche da agenti chimici. Parliamo soprattutto di agenti chimici. Perfetto. Quindi questo è il biologico. Il vegano invece che cos'è? Il vegano è una categoria a parte. Comunque mangia anche biologico però essendo il vegano vero in realtà non utilizza, oltre ad essere un vegetariano puro, non utilizza neanche i derivati degli animali tipo il latte, le uova perché da una parte ci sono poi due categorie di pensiero per quanto riguarda anche i vegani. Da una parte non vogliono intaccare ciò che è la parte morale, etica dell'animale. D'altra parte invece, forse fanno bene, non vogliono proprio intaccare sistemi biologici organici proprio del loro corpo, del loro organismo. Ho capito. Quindi c'è una doppia ragione per essere vegani. Allora cominciamo col parlare dei prodotti biologici. Nel suo punto vendita ci sono prodotti biologici freschi o prodotti biologici diciamo che allunga conservazione. Entrambi, sia freschi che allunga conservazione. Ecco, il fatto di non avere diciamo adulterazioni rischia di creare attraverso questo processo di produzione dei cosiddetti prodotti biologici, dei prodotti dal punto di vista diciamo strutturale non sani. Perché, faccio un esempio, il trattamento che si fa di determinati alimenti serve a preservarli dalla presenza di vermi. E quindi, diciamo, per dirla in maniera semplice in modo che i nostri telespettatori capiscono, la mela trattata è una mela che facilmente può essere abitata dal verme dentro. La mela invece che non è trattata, o meglio, il contrario, la mela non trattata può essere abitata dal verme, la mela trattata invece è una mela che quando la si apre è sana. È una falsa credenza? Allora, quando noi parliamo di biologico, noi parliamo di un ritorno all'antichità, tipo al grano duro. Tante volte si parla di biologico pensando a qualcosa di extraterrestre. In realtà stiamo soltanto riprendendo ciò che è stato coltivato dai nostri nonni. Ancora prima dei nonni dei nostri nonni. Del tipo, ti faccio un esempio, più che della frutta, della mela, che sicuramente è un discorso giustissimo quello che fai tu, però quello dipende moltissimo da chi lo coltiva e da chi ce lo vende. Questo noi non possiamo saperlo, insomma. Certo. Ciò che interessa soprattutto l'alimentazione biologica è appunto questo ritorno, ad esempio, dei diversi tipi di grani. Tipo un ritorno adesso, cioè del grano cappelli. Un grano duro che è stato il nostro grano per anni e anni e anni e si sta riscoprendo soltanto adesso. E perché si è cambiato? Si è stato per anni e anni il nostro grano e perché lo si sta riscoprendo? Cioè chi ha di particolare rispetto a... Allora, purtroppo questo è un fatto umano, quello di dover rovinare sempre tutto ciò che abbiamo per scopi economici. Ecco. Allora, il grano cappelli che avevamo, ed è proprio il nostro, pugliese, prodotto solo da noi, cioè nel senso soltanto il terreno pugliese e della Basilicata, ha un terreno fertile per il nostro grano. Quindi vedi quanto può essere importante. Certo. Purtroppo è stato, diciamo, sono stati introdotti, diciamo dei cromosomi, diciamo così, sono stati alterati per poter produrre un grano che potesse essere più commerciale. Quindi è stato, come posso dire, manufatto? Praticamente si è privilegiato un tipo di grano. No, è stato proprio trasformato, è diverso. E quindi è un OGM a tutti gli effetti? Sì, oppure è il prodotto di, diciamo, incroci fatti in maniera naturale? Sono incroci fatti in maniera assolutamente non naturale che hanno prodotto un grano diverso. Ho capito. È il grano che oggi purtroppo ci sta intossicando, perché a lungo andare ci è andato comunque ad intossicare. E questo si è fatto perché il nuovo tipo di grano, che ha sostituito quello dei secoli passati... È molto più industriale. Quindi produce di più. Esatto. La spiga è molto più ricca, quindi quando si... Sì, è anche di basso valore, anche economico. Quindi può essere più commercializzato. E la riscoperta del grano di un tempo, del grano cappelli, è dovuta a che cosa? Che ha come vantaggi rispetto a quello, diciamo, industriale, chiamiamolo così? Allora, innanzitutto, adesso c'è, per fortuna, ci sono anche le mode che ci fanno riscoprire le cose antiche. Quindi, la moda è iniziata dal grano corasan, ovvero il kamut. Ormai tutti mangiano il kamut perché è di moda. Oppure, c'è chi se ne intende, effettivamente il kamut è un grano duro, come il nostro grano cappelli. Ed è molto ricco di proteine, molto ricco di carboidrati. Sull'andare di questo grano corasan, appunto, il kamut, si è stato riscoperto successivamente che esiste anche questo altro tipo di grano, ovvero che è il nostro. Perfetto. Molto simile al kamut a livello proteico, a livello di carboidrati, a livello anche di sali minerali. Però, appunto, coltivabile soltanto nelle nostre zone, anche se ormai, purtroppo, il tavoliere, le nostre zone pugliesi, non riescono neanche più a produrre. Infatti, l'unica zona in cui si riesce a produrre proprio il vero grano cappelli è nell'entroterra lucano. Ecco. Quindi, diciamo che sono i valori nutrizionali del grano cappelli che sono, come anche del kamut, che sono di gran lunga maggior rispetto all'altro tipo di grano. Non sono maggiori, sono molto molto simili. Però calcola che il kamut, ad esempio, viene importato. L'importazione è soprattutto canadese. Quindi, puoi immaginare che dal Canada a qui, cosa può succedere, insomma? Certo, certo. Quindi, allora, anzitutto c'è un ritorno ad una tipologia di prodotto naturale, o meglio più... Grano duro. In questo caso di grano duro. E sul metodo di coltivazione possiamo stare tranquilli, cioè nel momento in cui troviamo sull'etichetta prodotto biologico, al di là del fatto che il prodotto è di tipo, diciamo, non manipolato, siamo sicuri che non sia stato trattato? Cioè, chi ci dà questa garanzia? Allora, se il prodotto è biologico, comunque c'è il marchio sulla scatola e non può essere contraffatto. Poi... Poi, vabbè, è chiaro che siamo su questa terra e tutto può succedere. Oltre al grano ci sono altri prodotti che hanno avuto lo stesso tipo di... Di riscoperta. Esatto, sì. Beh, c'è l'amaranto, il miglio, soprattutto la quinoa. La quinoa, ad esempio, è un cereale molto, molto proteico. Ad esempio, questo viene moltissimo utilizzato dai vegali, perché loro, non potendo mangiare carne, devono trovare comunque le proteine in qualche altro elemento. Certo. Non essendo vegetariali, non possono prenderlo dalle uova. E quindi lo prendono, ad esempio, dalla quinoa, che tra l'altro ha un valore proteico molto più alto della carne stessa. Perché addirittura? Sì, sì. Ha tutti gli aminoacidi essenziali che servono per il nostro organismo. E si trova facilmente in commercio la quinoa? La quinoa ormai si trova in commercio, però anche lì bisogna stare molto, molto attenti. A che cosa in particolare? Lì dovete leggere proprio la composizione, perché tante volte... Allora, la quinoa è molto, molto costosa come cereale. Non è un prodotto che si coltiva in Italia, no? No. Perché già il nome non ha una familiarità. Da dove proviene? Questo sinceramente non lo ricordo, però dovrebbe, se non ricordo male, dovrebbe essere comunque nelle zone asiatiche. Però potrei sbagliarmi. E quindi bisogna stare attenti perché, diceva? Perché, essendo un cereale molto, molto costoso, prenderlo puro, ad esempio, potrebbe... Il prezzo in commercio di quello reale è tipo 500 grammi sugli 8 euro. Quindi, notevole. Vedete un prezzo diverso, dovete leggere bene le etichette, perché o la quinoa l'hanno vista passare, semplicemente, oppure ci sono. È stato praticamente mischiato da altri tipi di cereali. Ho capito. Quindi diciamo che è una composizione di cereale, non quinoa, in maniera autentica. Ma oltre a questa quinoa, che oltre ad essere costosa... È anche molto saporita. Ah. Te la consiglio. E rispetto, per esempio, per fare un paragone ai più conosciuti legumi nostrani, la quinoa è più saporita e ha molto più valore proteico? Esatto. Le proteine che ti dà la quinoa non trodano nessun altro elemento. E in attesa di trovare la quinoa, gli altri legumi che invece sono più facilmente reperibili, e che sono consigliabili per avere apporto proteico, ma anche, diciamo, quegli elementi che sono essenziali per chi magari vuole sostituire o ridurre il consumo di carne. Perché, tra l'altro, ultimamente, a prescindere poi dagli orientamenti vegani, ci sono delle evidenze scientifiche, secondo cui soprattutto le carni rosse costituiscono un pericolo per la salute, se mangiate con molta frequenza. E allora, in attesa di trovare la quinoa vera... No, dalla quinoa vera si trova tranquillamente. Bisogna soltanto essere un po', bisogna stare un po' più attenti a leggere le etichette dietro. E comunque, non possiamo mangiare tutti i giorni quinoa. Gli altri legumi che possiamo consigliare, che hanno, se non lo stesso valore, che ovviamente mi pare di capire, è irraggiungibile, qualcosa che possa arrivare più o meno alle capacità proteiche della quinoa, ce ne sono o no? C'è, ad esempio, l'amaranto, che comunque, ad esempio, ha un amminoacido essenziale molto, molto importante. Ha la lisina. La lisina, questo amaranto, sembra che parlo di farmaci, in realtà sono prodotti e cibo. Sì, sì, sì. Sembra quasi strano. Questa lisina, con la vitamina C che noi già abbiamo, serve ad ossigenare il nostro muscolo. Infatti viene utilizzato tantissimo dagli sportivi. Ah, questo amaranto. L'amaranto. Che è un cereale anche questo. E possono utilizzarlo anche i celiaci, come del resto anche la quinoa. Ah, perfetto. Quindi diciamo che ha il vantaggio di essere senza glutine. Di essere senza glutine, perfetto. Quindi diciamo che attraverso questo tipo di dieta facilmente si può evitare di mangiare carne, per ragioni che abbiamo detto, per ragioni anche legate ad una dieta priva di colesterolo, anche perché i cibi vegetariani e vegani evitano anche questo rischio, perché non ci sono grassi in questi cereali. Allora, o sono a bassissimo contenuto di grasso o non ci sono proprio. Ad esempio, i vegani utilizzano tantissimo la soia. E se pensiamo che comunque un cinese con il colesterolo è bravissimo da vedere, forse hanno ragione, insomma. La soia è ricchissima di omega 3 ed è per questo che viene utilizzato moltissimo dai vegani, anche per abbassare il colesterolo, però non solo. Ad esempio, la soia è molto ricca anche di fitoestrogeni. I fitoestrogeni servono sia come rilassanti e anche nelle donne, ad esempio, in menopausa, perché servono comunque per riattivare dei meccanismi che vanno comunque persi a livello ormonale. Parlavamo della quinoa e dicevamo solo di quella è molto saporita, ma possiamo dire che anche altri prodotti... Certo, l'amaranto è anche molto saporito. Il miglio. Il miglio è un altro alimento che prima si dava praticamente anche, soprattutto agli animali. Adesso l'abbiamo riscoperto noi stessi. Il miglio, ad esempio, ha sostanze come il silicio, che servono tantissimo per la ricostruzione, la fortificazione di unghie e capelli. Serve moltissimo anche per il benessere della pelle. Qui sono tutti quanti i mix che si possono fare, perché possono essere sia cucinati che utilizzati soffiati. Ad esempio nello yogurt, nel latte... Cioè, in questo caso si possono mangiare crudi, diciamo? Certo, quello soffiato si può mangiare crudo. Anche nelle insalate, nelle verdure. E riescono a compensare anche la, diciamo, carenza di gusto che ci verrebbe meno riducendo carne, pesce, eccetera? Non è un gusto. Allora, non è che non hanno gusto. Hanno semplicemente un sapore diverso, a cui non dobbiamo abituarci. Quindi è solo questione di abitudine, da questo punto di vista. Però, ecco, il buon gustaio. Noi stiamo proponendo dei cibi, diciamo, che tutto sommato, nell'immaginario collettivo, non danno l'idea di permettere un bel pranzo gustoso. Soprattutto in questo periodo, è falsa questa convinzione. Cioè, si può fare un bel pranzo di cui puoi restare soddisfatti quando ci si alza da tavola, anche con questi prodotti? Allora, innanzitutto, questi prodotti possono essere utilizzati in tutte le ricette possibili e immaginabili. Oltre al sapore, che sono comunque molto, molto buoni. Sono molto digeribili. E poi dipende, perché se per rimanere soddisfatti vuol dire alzarsi da tavola, che si soffoca o comunque che non riusciamo neanche a stare in piedi, è un discorso. Con questi prodotti riesci a raggiungere il senso di sazietà ed alzarti da tavola senza sonnolenza, perché ovviamente, essendo prodotti, nella maggior parte dei casi, senza glutine, non ti dà quel tipo di sonnolenza post-prandiale, dopo pranzo, insomma, che puoi avere. Quindi la soddisfazione ce l'hai. Cioè, anche il palato c'è la sua soddisfazione. Poi sono dei mix di sapori che si possono comunque associare. Ora, io te ne ho parlato comunque molto del singolo prodotto, ma in realtà di ricette ce ne sono tantissime. E nei punti vendita, oltre a trovare i prodotti, ci sono anche delle indicazioni, perché sono cibi ai quali la maggior parte di coloro che ci seguono non sono abituati, quindi magari si trovano di fronte al... mentre davanti alla lenticchia uno sa come fare... No, 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 dipende molto dal venditore, ovviamente. Quindi, solitamente, c'è comunque, in linea di massima, una consulenza per sapere come utilizzarli? Spero di sì. Nella mia parafarmacica, ovviamente, ci sono io. Questo c'è. C'è. Però, non ti sa per dire, ad esempio, se vai in un supermercato, non penso che ci sia qualcuno. Quindi questi prodotti si trovano anche nei supermercati. Sì, con l'attenzione di leggere le etichette e ci tengo molto a dirlo. Perché utilizzare... I costi sono dovuti anche alla purezza del prodotto. Certo. Ci tengo molto a precisarlo, quello. Sì, questa è, diciamo, una buona abitudine da prendere per qualunque tipo di prodotto. Per esempio, insistono molto i coltivatori sulla impossibilità a trovare un olio che, oltre ad essere definito tale sull'etichetta, lo sia davvero, quando costa un terzo di quanto serve per produrlo. Quindi, anche su altri prodotti non biologici, bisogna sempre riflettere sul rapporto qualità-prezzo. Vuoi sapere di un olio veramente biologico, puro, che è quasi migliore del nostro olio extravergine di oliva? È un olio di vinacciolo. Sarebbe? È un olio che proviene dai semi dell'uva. Ah. I semi dell'uva che noi buttiamo... Noi pensavo che si facesse il vino solo dall'uva. No, anche l'olio. Dai semi dell'uva ci sono questi vinaccioli, ne scono massimo quattro. E da qui si produce un olio buonissimo perché contiene altissima quantità di acido di Omega 6, in pratica. Immagino però che costerà un occhio, nel senso che per fare un litro di olio dai semini piccolissimi... Abbiamo una distanza del tipo sui 5 euro, mezzo litro. Ah, così, quindi... Però non devi pensare al costo. No, no, era giusto. Devi pensare a ciò che può produrre nel tuo organismo. Ecco, e siccome gli Omega 3, bene o male, a furia di sentirli ripetere in tv come antidoto al colesterolo, più o meno sappiamo a che servono. Io parlo di alimentazione. Eh sì. Non parliamo di compresse. Sì, sì, sì. Noi parliamo di curarci semplicemente con l'alimentazione. Però, mentre sappiamo a che servono gli Omega 3, gli Omega 3 che troviamo in quest'olio... Sono sempre associati per abbassare i livelli di colesterolo. E non solo. Ci sono stati degli studi che hanno visto anche l'abbassamento di LDL. Ora parlo in maniera molto molto generale, perché ovviamente chi ha delle LDL altissime o un colesterolo altissimo può anche prendersi insomma le tanniche di questo olio. Non penso che possa servire a molto. Però se noi cominciamo a mangiare bene e a sapere soprattutto cosa mangiamo, questo serve per proprio la prevenzione di tantissime patologie. E diciamo, abbiamo parlato di proteine sicuramente, ma questi prodotti biologici e vegani riescono a sostituire in toto la carne, pesce, insomma tutti quei prodotti animali, anche per esempio i derivati del latte che da quello che dicono, non sono del campo, contengono vitamina D, contengono calcio, eccetera. Cioè noi riusciamo a sostituire in toto prodotti di origine animale? Allora innanzitutto io non sono per la sostituzione, ma per l'associazione. Per me bisogna mangiare bene conoscendo tutto. Quindi io non sono né vegetariana né vegana, a me piace mangiare bene. Quindi questo è il consiglio che do a tutti. Poi comunque ognuno ha il suo modo di, la sua cultura, il suo modo di pensare. Quindi se qualcuno è vegetariano, ci sono i vegani, ci sono i vegetariani, ben venga, perché la cultura è bella. Certo. Per quanto riguarda la sostituzione, l'unica cosa che è carente nei legumi, ma anche in questa pregiadissima quinoa, è la vitamina B12, che purtroppo può essere assunta soltanto con la carne. Ah ecco. Quindi i vegani in realtà assumono compresse di vitamina B12 per poter integrare questa mancanza, insomma. Quindi la vitamina B12 solo con la carne si riesce? Sì, la vitamina B12 non è che solo con la carne, è l'elemento che ne contiene di più. E a livello, per esempio, soprattutto le donne hanno, soprattutto in una fase della loro età, carenza di ferro, per cui si dice che il ferro vegetale sia meno assorbibile dall'organismo rispetto al ferro animale. E così anche per questi legumi, insomma, no? È così, perché il ferro che viene contenuto in questi legumi ha un'ossidazione diversa dal ferro che comunque viene contenuto nella carne, che è praticamente simile al nostro. Poi per quanto riguarda la questione del lattosio che mi dicevi prima e del latte, ci sono tantissimi latte che sono anche migliori del latte commerciale, diciamo così. Ad esempio c'è il latte di mandorla, che è un latte ricchissimo di selenio e può essere utilizzato anche nella crescita. Dopo un anno di età, al posto di utilizzare questo latte comunque molto molto industriale, il latte di mandorla serve appunto per la crescita del bambino. Oppure lo utilizzano moltissimo gli anziani, nelle due fasi. Oppure il latte di avena. Il latte di avena è buonissimo, anche quello lì è ricchissimo di calcio. Oppure il latte di soia, come ne stavamo già parlando prima con la soia, si fa di tutto. Si fanno i formaggi, c'è il tofu ad esempio. Amatissimo dai vegani, che è un latte fresco. Cioè sono praticamente soia estratta, praticamente soia fresca insomma. Quindi diciamo che conoscendo, perché mi pare di capire che è tutto un mondo nuovo da imparare a conoscere, si può creare un'alimentazione bilanciata utilizzando il vecchio e il nuovo, creando maggior equilibrio, quindi evitando abusi, e creando quindi un'alimentazione variegata e ricca di tutti gli elementi. Vogliamo concludere questo nostro spazio, abbiamo soltanto due minuti, con un esempio di ricetta. Vogliamo prendere uno di questi due legumi più famosi e dare proprio un esempio di come portarli dal negozio a tavola. Allora, una ricetta semplicissima. Mettere praticamente a bollire questa quinoa per una mezz'ora. Allora, la quinoa deve essere completamente ricoperta di acqua. La quinoa andrà a riassorbire dopo mezz'ora, fuoco lento. Si lascia prima bollire l'acqua e poi si mette la quinoa, come facciamo con la pasta, no? No, 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 assolutamente. Insieme acqua, quinoa e si accende il gas. Si accende il gas, fuoco lento. Sì. Dopo mezz'ora vedete che la quinoa avrà praticamente assorbito acqua. Il consiglio è sempre di mettere un pizzico di sale. Meglio se è sale integrale, ad esempio quello dell'oceano atlantico, oppure il sale dell'Himalaya che è ricchissimo di minerali e ha pochissimo sodio. Ma giusto un pizzico. Sì. Dopodiché si può servire a tavola, così come perché è veramente molto saporito, con un filo d'olio, che sia extravergine di oliva oppure l'odivinacciolo che ti dicevo prima. Perfetto. E con questa ricetta alternativa, salutare e a quanto pare in grado di dare gusto per chi nel tempo sa apprezzarlo, vi salutiamo e vi rinnoviamo un augurio di buone feste con un pizzico di moderazione anche a tavola. Grazie dottoressa. Grazie a lei. Grazie a lei. Grazie a lei.